Il riconoscimento del fascicolo del fabbricato come strumento di monitoraggio, di cognizione di un fabbricato e soprattutto finalizzato anche, oltre a garantire la sicurezza del fabbricato stesso, finalizzato anche a programmare gli interventi, credo che sia per le divise residenziali pubbliche, quindi per i beni pubblici, per la residenza pubblica, credo sia quanto di meglio si possa aspettare. Noi con questo fascicolo che abbiamo predisposto come software, abbiamo informatizzato, abbiamo messo a sistema tutti i dati che avevamo, oltre a una campagna di rilevamento video fotografico che abbiamo fatto nell'anno 2016. Quindi l'utilità di questo fascicolo che viene messo ormai tutti insieme in un grosso server nostro e praticamente ci darà la possibilità, intanto se le altre ATER lo vorranno, di condividere con noi il software che abbiamo realizzato a costo zero. Sicuramente come risultato finale c'è da aspettarsi la redazione di un quadro esigenziale di risorse per gestire al meglio le divise residenziali pubbliche in Abruzzo. E quindi questo credo che sia utile come supporto al decisore.